Il panel che si apre per me è un panel molto importante, forse senza nulla togliere agli altri uno dei più importanti di questa giornata, perché ci sono degli elementi che riguardano i diritti che forse sono più immediatamente di presa, hanno un calore maggiore e poi ci sono degli elementi che consentono l'effettivo esercizio dei diritti. E qui oggi, in questo momento, noi parliamo dell'educazione finanziaria e abbiamo citato più volte oggi il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi e uno degli elementi di questa prigione che forse non è più quella di 77 anni fa, cioè della metà degli anni 40, in cui venivano ottenute molte donne in famiglia, ma da quel che sappiamo nelle cronache è ancora per molte una vera e propria prigione, è anche fatta dell'impossibilità di esercitare la libertà finanziaria. Quindi il tema dell'educazione finanziaria, il tema, noi l'abbiamo chiamato financially fabulous, il tema della capacità di autodeterminarsi, di autodeterminare le proprie scelte anche in tema economico, è un prerequisito fondamentale dell'esercizio effettivo della libertà. E io vorrei partire proprio da qui. Se noi immaginiamo che nel percorso di educazione finanziaria esistano un po' tre aree che forse poi in parte sono anche tre stagioni della vita, l'accesso al credito, l'utilizzo di strumenti finanziari e poi la previdenza, immaginare come assicurarsi un futuro. Rispetto a queste tre aree ci sono due grandi necessità. Da una parte una necessità di maggiore consapevolezza, quindi maggiore consapevolezza individuale. Dall'altra una rimozione che forse può venire dalle istituzioni, dalle policy, di alcuni ostacoli che ancora permangono all'esercizio effettivo di queste libertà. Allora io vorrei chiedere proprio Alessandra Perrazzelli, nel suo ruolo istituzionale, forse una delle poche stanze dei bottoni riserva della Repubblica che ancora esiste, è la Banca d'Italia. Abbiamo la fortuna di avere qui il Vice Direttore Generale di Banca Italia. Vorrei chiederle quali sono le policy che possono aiutare in questo senso. E dall'altra parte, visto che poi le persone che sono qui ogni giorno sono chiamate a fare delle scelte per il loro accesso al credito, per la loro capacità poi di utilizzare gli strumenti finanziari e per immaginare il proprio futuro, che cosa possiamo dire loro. Intanto grazie, sono molto contenta di essere qui con voi e di poter parlare di questi temi, perché questi sono temi centrali alla nostra cittadinanza economica, nostra cittadinanza economica attiva, alla nostra libertà come individui e anche alla pianificazione proprio della nostra vita, del nostro futuro. Innanzitutto bisogna dire che esiste, in generale per tutti gli italiani, un gap di conoscenza per quanto riguarda le materie finanziarie. Non è soltanto tipico delle donne, non è soltanto tipico delle donne più giovani, è tipico degli italiani perché queste sono materie che non vengono insegnate a scuola. La buona notizia è che questo decreto capitale di questi giorni ha inserito nell'ambito dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. Quindi adesso si comincerà a tutti i livelli della scuola ad insegnare proprio quelli che sono i punti più basici di un rapporto con il danaro, un rapporto con la finanza, che sia in qualche modo informato. Quello che noi abbiamo osservato nei nostri studi, Banca d'Italia, si occupa naturalmente di questi argomenti perché questi argomenti hanno un grande significato anche in termini di crescita del Paese. Quindi abbiamo cominciato a guardare quante donne lavorano nel nostro Paese perché questo è un tema che va di pari passo con la conoscenza finanziaria e purtroppo sappiamo che siamo spaccati a metà. 50% delle donne italiane non lavorano e non hanno un reddito proprio. Le donne che lavorano oggi siamo in grado di dire che conoscono meglio le materie finanziarie e soprattutto le più giovani oggi hanno la capacità di gestirsi in autonomia. Questo però è un fenomeno che riguarda le fasce proprio di donne più giovani. Tradizionalmente una donna, soprattutto una donna sposata, quindi una donna, chiamiamola madre di famiglia, la gestione finanziaria la attribuisce al proprio compagno, al proprio marito. Questo ha una serie di ripercussioni. Innanzitutto una mancanza di conoscenza degli strumenti più semplici. Parliamo di credito ma parliamo anche di risparmio. Come investire, come utilizzare la propria conoscenza per sapere, soprattutto quando i soldi sono pochi, come investirli al meglio. Più in là avere contezza di quelle che possono essere le proprie prerogative per quanto riguarda tutta la previdenza. Quindi il momento in cui si passa da una vita lavorativa attiva alla pensione. Tradizionalmente le donne italiane oggi sempre di più studiano materie che sono più vicine, materie più economiche, quindi diciamo si predispongono anche a capire meglio queste tematiche, ma è ancora un gap molto importante. E questo è uno dei punti sui quali poi magari tornerò nel parlare poi di quali possono essere le cose che facilitano. Perché educazione finanziaria, lavoro, educazione digitale vanno di pari passo. Chi non lavora molto più difficilmente capisce come gestire i propri soldi. Chi sa come gestire i propri soldi oggi deve fare uno sforzo di più e capire anche come gestirli in un mondo digitalizzato. Dico un'ultima cosa. Siamo in un periodo di crescita della povertà assoluta. 6 milioni di italiani sono poveri. 10% Esattamente. Quindi la maggior parte delle persone in povertà assoluta sono mamme da sole con bambini. Quindi che hanno redditi estremamente contenuti. Quanto è importante aiutare chi ha poco a gestire quel poco che ha. Lo sforzo noi Banca d'Italia lo sta facendo. Speriamo adesso che con questa sembra predisposizione anche di un'attitudine diversa nei confronti di queste tematiche il tema dei soldi possa non essere più un tabù soprattutto per le donne italiane. Ecco c'era anche una formazione che portava a immaginare che occuparsi dei soldi fosse una cosa che non era nemmeno troppo elegante. E invece non è così. E io vorrei chiedere a Michela Castelli proprio anche di dare delle istruzioni pratiche a questo nostro uditorio. Come ci si forma un'educazione finanziaria rispetto agli strumenti che sono cambiati. Dicevamo ora l'educazione digitale sicuramente gli strumenti finanziari che esistono oggi sono molto diversi da quelli che esistevano vent'anni fa. Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità di essere qui. Sì, quindi si passa dall'idea che la donna è capace solo di spendergli soldi, che è un'idea che anche questa fa parte di un retaggio culturale del passato, alla fase che viviamo ora. È cambiato moltissimo. C'è una canzone negli anni trenta che diceva mamma tu vuoi solo profumi per te. Esatto. E tutto anche abbastanza rapidamente. Oggi cosa mi sento di dire? Io ho fatto un'esperienza ordinaria come molte delle persone della mia età e mi sono affacciata però forse in un momento in cui ho avuto una finestra di osservazione molto fortunata perché ho lavorato in Borsa Italiana al momento della privatizzazione negli anni successivi. Forse da lì in effetti penso che sia stata una svolta epocale. Borsa Italiana non era una società privata, è stata privatizzata e diventata quindi una società che come tutte le altre ha come obiettivo l'apprezzamento dei propri clienti, del proprio mercato e quindi è diventata una società prodotto. Quindi abbiamo la vigilante e la vigilata. Società vigilata, abbiamo Bancaritalia, abbiamo Conso che è un altro elemento importante a cui voglio arrivare. Quindi è nata come società prodotto perché c'era domanda, perché è cambiato progressivamente il contesto economico-culturale, il contesto istituzionale e progressivamente ci si è resi conto che quello che prima era un passaggio scontato, quindi il passaggio vita lavorativa e vita non lavorativa, quindi non più attiva, quindi tutta la forma previdenziale e anche il tema di riuscire ad avere accesso a dei beni, implicava il fatto di imparare a gestire i propri risparmi. L'italiano è un risparmiatore, quindi di fatto il risparmio c'è sempre stato in Italia. Creare delle situazioni di contesto e di prodotto che consente, facilita la gestione del proprio capitale, perché si chiama strategia di capital allocation, lo facciamo nelle aziende, ma le stesse cose diventa anche nel contesto del nucleo familiare, che sia un nucleo a due, che sia un nucleo unipersonale o che sia una famiglia in senso più tradizionale. Adesso attraverso il mondo della finanza, che è un mondo che si è progressivamente evoluto, gli strumenti accessibili sono tanti e diversi e consentono veramente di soddisfare anche esigenze molto diversificate. Riscontriamo che anche quello che diceva Alessandra, la digitalizzazione facilita anche un percorso di conoscenza di questi strumenti, di questi prodotti, perché ovviamente l'accesso alle informazioni è diventato più agevole. È chiaro che bisogna sempre prediligere siti istituzionali, perché tutte le più grosse istituzioni, banche, chiaramente noi abbiamo soggetti che vigilano e che si sono dedicati, hanno dedicato tempo e attenzione per creare pagine specifiche anche sui loro siti internet, di cui rendere queste informazioni fruibili e anche a livelli diversi di interessamento. Per cui ci sono pagine dedicate per imparare i primi eludimenti e anche per chi invece ha curiosità maggiore. Quello che riscontriamo è che c'è molta più attenzione all'idea anche della pianificazione delle proprie strategie economico-finanziarie del proprio portafoglio, però è una situazione ancora molto diversificata. I giovani sono molto più preparati paradossalmente e più curiosi, quindi cercano di crearsi una propria cultura, una propria idea, ma l'idea della pianificazione in questo momento è completamente sparita. Per cui magari sono attirati dalle criptovalute, ma non immaginano... Come si impara a pianificare? Eh, questo è forse secondo me l'aspetto ulteriore su cui bisognerà che siano le autorità, l'università, l'istruzione che dia un pochino più di sollecitazione da questo punto di vista e anche le famiglie. Diciamo che pensare al futuro nella mia generazione era un must e tutte le scelte erano un po' a servizio di quello che vuoi diventare. Adesso vedo che questo è un driver che le nuove generazioni hanno sempre meno, preferiscono provare e vanno rotolando e sicuramente questo li alleggerisce in termini di responsabilità, però probabilmente se non accompagniamo anche questa leggerezza che si accompagna a un mercato del lavoro molto più flessibile, anche con l'idea che un minimo di pianificazione in più la dovranno avere, questo può diventare un problema. È una necessità secondo lei oppure non c'è più il futuro di una volta e quindi tanto vale come dire improvvisare perché domani non si sa bene? Diventa per me una necessità imprescindibile, questo implica anche trovare del tempo da dedicare, cioè non farlo in maniera estemporanea, non farlo sempre solo in autonomia, perché noi viviamo in un mercato che comunque è un mercato che è anche dei presidi di controllo molto robusti, in questo ci tengo a dirlo, l'Italia si muove in un contesto europeo ed è un paese che da un punto di vista anche dei presidi di controllo, sto parlando di chi si affaccia a questi strumenti, paura delle frodi, paura... No, siamo un sistema molto ben regolamentato, molto ben vigilato, che quindi consente accesso a strumenti finanziari diversificati in funzione di chi è l'interlocutore, quindi è utile farsi aiutare in questo percorso a seconda chiaramente del livello di complessità che ognuno deve avere rispetto alle proprie strategie. Ci sono però molti strumenti, è chiaro che anche farsi aiutare da un promotore finanziario, da qualcuno che si occupa di questo, perché lo fa di mestiere, e quindi riesce a interpretare le esigenze e quindi a trovare anche delle proposte concrete da sottoporre poi all'attenzione del cliente per incontrare chiaramente quelli che sono gli interessi e le esigenze della persona. Però farlo in maniera non unilaterale, cioè ci deve essere un dialogo, non può essere un monologo, e il cliente avrà sempre il diritto di valutare anche che è esposto che tipo di strategia è stata fatta ed eventualmente contribuire a modificarla. Quindi insomma, poi magari appunto non voglio togliere il tempo, però è utile cominciare a incuriosirsi, non è una materia così complessa, non è una materia che deve spaventare perché non è vigilata, non è presidiata, quindi può essere diciamo terreno predatorio per persone non propriamente corrette, è qualche cosa che uno deve imparare per se stessi, perché progredirà nel tempo come l'accesso al credito, come il sistema previdenziale, i piani di accumulo, ci sono mille proposte e proprio come districarsi in queste proposte rende imprescindibile il fatto che uno si faccia una propria opinione. Per farlo possono essere utili delle risorse digitali e se sì quali? Risorse digitali assolutamente sì, chiaramente internet è una fonte grandissima di informazione e chiaramente bisogna imparare a gestirlo, ma ce lo siamo detti prima. È chiaro che i siti istituzionali, tutti gli enti più importanti e gli operatori del paese ormai hanno delle pagine dedicate e sono facilmente accessibili. È chiaro che poi anche l'operatività concreta, il dialogo con questo sistema, con il mondo finanziario è chiaramente molto digitalizzato. Se ci pensiamo anche la borsa ormai si è dematerializzata, cioè gli scambi, gli strumenti finanziari non arriva più come si pensa una volta, si vede nei film, nel recinto delle grida non esiste più, esiste tutto dematerializzato e tutto digitalizzato. Quindi è chiaro che anche quello facilita il percorso di conoscenza e facilita il percorso di gestione. Professoressa Beccali, io ho in testa un numero da qualche giorno e vorrei un po' metterlo alla prova con lei. Il numero che ho in testa è 2.152 perché ho trovato questa data in diversi studi che sostengono che a ritmo attuale la parità retributiva tra generi arriverà tra 129 anni. Mi sembra un tempo non geologico, però credo che nessuno di noi sarà qui nel 2.152 a controllare se effettivamente è così. Dall'altra parte, io vengo da una generazione che ha in testa una pagina straordinaria di Ignazio Silone in Fontamara quando un bracciante dice al figliolo l'unico modo con il quale tu, cafone, non guarderai dal basso all'alto il padrone della terra è lo studio. Quindi lo studio sarà il tuo ascensore sociale. Questa è la cosa. Oggi però vedo che sei laureate su dieci in Italia sono donne e questa stessa rappresentanza non si trova poi nei luoghi di lavoro e in generale nei ruoli dirigenziali. Su questo Claudia Goldin, che abbiamo già citato oggi, premio Nobel, ha dedicato la sua vita agli studi proprio sulle dinamiche affinché per capire quali siano i motivi e poi per provare a rimuoverli. Da questo punto di vista ci sono delle politiche che possono essere più efficaci, se sì quali? Dunque, innanzitutto grazie per l'invito, è molto bello essere qui in Aula Gemelli in un contesto molto diverso da quello consueto. Innanzitutto il premio Nobel a Claudia Goldin ci dà grande impulso sia in termini di ricerca scientifica e anche, direi, alla società civile perché rimette al centro dell'agenda di ricerca e non solo il tema delle differenze di genere nelle declinazioni molteplici che queste differenze di genere oggi trovano perché l'implicazione sull'occupazione, come già è stato accennato, l'implicazione sulle retribuzioni così diverse tra uomini e donne a parità di mansioni perché questo è il tema centrale, gender pay gap, per cui per la stessa mansione ritroviamo oggi in Italia una differenza di retribuzione nell'ordine del 10, 15, 20, poi a seconda delle stime. Quindi parità di carriere e di mestiere una donna in genere guadagna il 15-20% in meno di meno. E questo è un tema di disparità estremamente rilevante, è un'ingiustizia che va presa con grande serietà. Allo stesso tempo in altri ambiti dei miglioramenti li ritroviamo anche grazie a delle normative, perché se pensiamo ai consigli di amministrazione, di società quotate, ritroviamo un miglioramento significativo, direi proprio un balzo in avanti da che le nuove normative sono state introdotte, ma allo stesso tempo guardando ai ruoli apicali di presidente, di amministratore delegato di queste stesse società quotate, troviamo di nuovo una presenza piuttosto limitata. Quindi luci ed ombre. In questo senso la normativa sulle quote di genere ha avviato un processo importante, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi, penso alla Francia, alla Svezia, dove normative analoghe sono state adottate, ma quello che poi è necessario è un cambiamento culturale, perché alla radice di queste enormi difficoltà che le donne sperimentano in molti ambiti, dall'accesso al credito, alla conoscenza dei prodotti finanziari, ai processi di selezione nel mondo del lavoro, perché anche questa è un'altra difficoltà importante, ritroviamo spesso una motivazione di natura culturale che nasce dallo stesso ambito familiare. Terrei a citare questa ricerca che è stata pubblicata proprio in questi giorni, alla quale ho lavorato con due colleghe ricercatrici, Francesca Arnaboli e Francesca Gioia. Abbiamo studiato come le famiglie italiane vanno a riallocare il proprio portafoglio finanziario alla nascita di un neonato, e di fronte a una riallocazione razionale che vede una riduzione della quota allocata in liquidità, e questo è atteso, ritroviamo invece però un bias legato al genere, perché quando la neonata è una bambina viene privilegiato l'investimento azionario, quando invece il neonato è un bambino viene privilegiato l'investimento obbligazionario. Come se lo spiega? Le spiegazioni possono essere di varia natura, di natura comportamentale o di natura previsionale rispetto alla situazione economica futura del neonato o della neonata. Quello che è certo è che è un comportamento che avviene trasversalmente, indipendentemente dal grado di istruzione dei genitori, e quindi è un bias di natura comportamentale. Dico male una cosa io, poi ogni tanto lei è una professoressa, mi può bacchettare. Non è che magari i genitori inconsciamente pensano, vabbè, questo è un maschio, bisogna costruirgli una rendita o una posizione futura, questa è una femmina, troverà qualcuno che la sposa, e quindi non ha bisogno di costruirsi un futuro, e possiamo investire in azioni che sono più rischiose. Ha tradotto perfettamente quello che è l'attesa diversa di condizione economica futura. Sì, proprio questo. E questo ci dice quanto prioritario sia l'investimento in educazione per le ragazze, perché se pensiamo al dato internazionale, il dato è drammatico. Meno del 49% dei paesi a livello globale è in una condizione di parità di genere sull'istruzione primaria, quindi abbiamo un'emergenza con una disuguaglianza educativa molto profonda, che poi sappiamo anche il presupposto della disuguaglianza economica e della persistenza della disuguaglianza economica, quindi è un'azione globale, quella sul piano educativo. Nel nostro paese abbiamo una serie di azioni legate, per esempio, alle discipline cosiddette STEM, quindi tutto quanto è più legato al mondo delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria, della matematica, dove soffriamo comunque un gap in termini di laureate donne rispetto ad altri paesi europei, e le laureate donne su queste discipline sono meno della metà dei laureati uomini in Italia. E siccome queste sono le discipline dove prevedibilmente si svilupperanno posizioni lavorative particolarmente interessanti, si diceva prima del digitale, è chiaro che anche in prospettiva questo tema deve essere preso seriamente in considerazione, perché se non interveniamo si genera oggi il gap di domani per l'inserimento su queste posizioni lavorative. Ecco, cominciamo un secondo giro. Io vorrei ricominciare da lei, professoressa, perché questo è un tempo anche in cui ci muoviamo in una società sempre più polarizzata, e si ha la sensazione che molto spesso gli interessi siano di parte, come se noi anche oggi qui sostenessimo un interesse di un genere per questioni sicuramente di equità, ma per questioni, diciamo, di recupero di una parità. C'è un tema che però emerge anche da alcune cose che lei ha scritto e che mi sono sembrate molto interessanti, che ci dice una cosa che io sostengo e di cui sono particolarmente convinto, che questi invece sono temi che hanno a che vedere con la società nel loro complesso, non solo con una parte della società, e già sarebbe abbastanza, ma non è solo quello il punto. È un tema di benessere complessivo e collettivo. È vero, come mi è parso di capire da un suo articolo, che le aziende in cui ci sono delle donne ai vertici, si parlava di aziende quotate, se non ricordo male, sono aziende che tendenzialmente hanno un comportamento più etico. È assolutamente così ed è documentato da studi scientifici. C'è la letteratura scientifica che lo sostiene. Abbiamo letteratura scientifica che ci mostra come all'aumentare di donne nelle posizioni di vertice di società quotate si migliora la cosiddetta condotta. Noi uomini siamo manigoldi. Si riduce il rischio di condotta perché questo, spiegato così nella letteratura, è determinato da una maggiore eticità, maggiore avversione al rischio del genere femminile. In particolare si riducono le sanzioni piuttosto che le frodi e quindi abbiamo, per esempio, sul settore bancario uno studio, a mio avviso, molto interessante che prende in esame le sanzioni combinate da autorità statunitensi a banche quotate italiane. Si vede che la maggiore presenza di donne ai vertici riduce in maniera sensibile queste sanzioni nell'ordine di un risparmio di 7 milioni di euro all'anno per l'intero sistema bancario europeo. Il dato è interessante perché ci porta a capire quali sono le teorie economiche che spiegano questo tipo di comportamento virtuoso, il tone at the top che oggi vediamo in diversi ambiti di applicazione. Innanzitutto la teoria classica dell'agenzia, cioè più donne ai vertici realizzano meglio un'attività di monitoraggio. E poi le teorie comportamentali che ci spiegano perché questo avviene, perché le donne riescono a contribuire a un migliore monitoraggio. E la teoria comportamentale ce lo spiega facendoci vedere come le donne tendenzialmente prestano più attenzione ai vari portatori di interesse. Ascoltano di più. I diversi stakeholder. In virtù di questa migliore capacità di ascolto, capacità relazionale più spiccata, si determina quel risparmio in termini di costi che è interessante proprio per questa leadership che si esercita in maniera diversa rispetto a quello che ritroviamo quando alla guida c'è un uomo. E altri studi scientifici, a mio avviso altrettanto interessanti, ci mostrano come più donne nei consigli di amministrazione consentano di favorire politica orientata alla sostenibilità, che può essere il welfare dei dipendenti, piuttosto che un'attenzione maggiore alle questioni ambientali e di nuovo una sensibilità diversa. Quindi il tema secondo me non è da impostare nell'ottica di avere necessità di occupare spazi, non è questo il punto, ma è nell'ottica di contribuire a un benessere collettivo migliore apportando uno stile nell'assunzione di responsabilità, direi, con le sue proprie distintività. Quindi accresce il benessere collettivo. Alessandra Perazzelli, torniamo dal sistema e dal benessere collettivo un po' invece alle scelte individuali e ai percorsi individuali. L'educazione finanziaria sarà parte dell'educazione civica per chi ancora la fa a scuola, perché in molte scuole non si riesce nemmeno a fare, ma oggi invece per chi è qui, per chi è già nel mondo del lavoro, ci si sta affacciando o è in diverse fasi. Quali sono i consigli che possiamo dare per accedere a una consapevolezza finanziaria maggiore? Innanzitutto io vorrei fare un po' di pubblicità al sito della Banca d'Italia, nel senso che noi siamo impegnati a divulgare educazione finanziaria da tantissimi anni. Lo abbiamo fatto anche formando gli insegnanti, quindi dedicando a varie scuole, tantissime nel nostro territorio, molta attenzione affinché potessero essere poi gli insegnanti a trasportare, a condividere con gli studenti queste informazioni. Sul nostro sito, che è un sito istituzionale, quindi non è un sito super divertente, però è abbastanza friendly, potete sicuramente andare a vedere in tutte le parti, basta che digitate educazione finanziaria e avete accesso a una serie di prodotti che possono essere interessanti per voi e che toccano praticamente tutti i temi di interesse, che possono essere quelli iniziali appunto sul risparmio, possono essere quelli sull'uso delle carte, ci sono anche tutta una serie di avvertimenti per quanto riguarda i temi di truffe, perché anche questi sono estremamente alla moda in questo periodo. Quindi io direi sicuramente quello può essere un aiuto. L'altra cosa che va fatta è studiare, nel senso che esistono dei testi anche molto agevoli che possono essere acquisiti in libreria, nei quali si dà un'informativa strutturata su tutte queste tematiche. Però il tema vero è avere interesse per questo, cioè il tema è proprio culturale e capire che queste tematiche non è un nice to have, ma è fondamentale per il vostro sviluppo, per la vostra cittadinanza attiva, nel senso che più sei padrone, non è consapevole di quello che tu hai a disposizione, ciò che tu puoi guadagnare, ciò che tu puoi risparmiare, come lo puoi investire. Maggiormente è il nostro peso e la nostra capacità di fare delle scelte che sono scelte economiche, scelte d'acquisto, sono anche scelte politiche. Attenzione, perché la finanza copre tutto un arco di temi che toccano la nostra cittadinanza, la nostra possibilità di partecipare ad un mondo democratico. Da questo punto di vista, una cosa positiva che dobbiamo dire è che noi viviamo in Europa. Per esempio, nell'uso dei nostri dati, che noi in maniera molto generosa affidiamo a tutte le app possibili ed immaginabili, siate consapevoli che voi affidate tanto delle vostre vite alle vostre app. Mi raccomando, riflettete su questo. Però noi siamo protetti come cittadini europei. Siamo protetti perché la normativa europea è una normativa che dice che i nostri dati, quindi la nostra età, la nostra carta di credito, quello che ci piace, quello che compriamo, appartiene a un diritto inviolabile della persona. Quindi non è una merce di scambio. Guardate che questo è un punto fondamentale che tutela tutti e tutte noi. Non è vero questo, per esempio, negli Stati Uniti, dove il dato afferente alla persona è uno strumento commerciale, quindi viene venduto, è oggetto di transazioni commerciali. Su questo voglio fare una sottolineatura personale perché ci tengo davvero, perché in esistenze passate ho avuto la possibilità di lavorare col professor Rodotà, che è stato, diciamo, uno dei pionieri in questo settore. Lui diceva che l'abeas corpus, che fu, diciamo, il diritto fondamentale che venne inserito nella magna carta, cioè nessuno può essere detenuto illegittimamente, cioè distolto dal suo giudice naturale, quindi arbitrariamente tenuto in carcere, dei nostri giorni è l'abeas data. Cioè tutto l'insieme di dati personali che riguarda ognuno di noi in realtà fa parte della sfera inviolabile dei diritti di una persona. E vorrei sottolineare come il fatto che si stia trasportando su piattaforma tutto il mondo attenente alla finanza, tutto il mondo del retail, tutto quello che noi compriamo, le scelte che noi facciamo, fa diventare questo punto ancora più importante. Perché oggi, se voi pensate, pensate a una banca tradizionale, no? La banca tradizionale fino ad adesso, usando il banco, Matta sapeva che a noi ci piace comprare le calze da un certo, diciamo, grande magazzino. Però conosceva sostanzialmente una transazione che va da punto A a punto B. Io che immetto la mia carta, quella transazione va al mio conto corrente e la storia finisce lì. E la banca sapeva che io, quel giorno tale, ero andata lì, avevo fatto questa acquisizione, avevo speso, non lo so, 20 euro, e la cosa finiva lì. Quando voi oggi e noi ed io andiamo a, non lo so, siamo su un'importante piattaforma social e ci piace tantissimo pensare di poter andare a fare una vacanza al mare. E quindi noi compriamo un pacchetto su quella vacanza e a un certo punto si apre una tendina che ci dice ti devi assicurare, è meglio che fai un'assicurazione. Quindi noi clicchiamo su quello, abbiamo tutta una serie di transazioni che avvengono in una maniera lineare, senza interruzione, non dobbiamo uscire e rientrare, d'accordo? Avviene tutto su quella pagina. In quel momento lì noi stiamo dando a tutti questi interlocutori che si parlano su una serie di piattaforme che sono collegate tra loro, tutto di noi. Quanto possiamo spendere, dove vogliamo andare, se andiamo da sole o non andiamo da sole, se abbiamo bisogno di un'assicurazione, se abbiamo un problema particolare quindi ci assicuriamo anche per quello. Questa è una ricchezza, come potete immaginare, enorme da parte di queste piattaforme, che parla di noi. Quindi occorre anche essere molto avveduti ed avvedute su questi temi e capire che cosa si sta facendo. Quindi accanto a un'educazione finanziaria che può avvenire con strumenti classici su internet, ma se voi digitate qualcosa avete praticamente spiegazioni anche fin troppo articolate, curate anche proprio l'educazione digitale, perché oggi la finanza, vedrete, si sposterà sempre di più su canali diversi, la nostra interlocuzione non sarà più in filiale, ma chi di voi c'è mai andato? Nessuno. Io vedo i miei figli che il giorno che dovessero comprare una casa il mutuo lo chiedono a un telefono, cioè non vanno sicuramente a chiederlo in filiale da qualche parte. Quindi tutti questi temi sono temi di consapevolezza e occorre sempre di più appropriarsene. Vorrei dire un'ultima cosa su quello che diceva Elena a proposito degli studi e dell'accesso al lavoro. Noi abbiamo pubblicato in Banca d'Italia degli studi a giugno su donne italiane al lavoro. E due elementi importanti che voglio citare qui sono venuti fuori. Il primo è che chi studia le materie STEM, le giovani donne che studiano le materie STEM hanno più possibilità non solo di lavorare ma di essere meglio pagate. E questo è un punto importantissimo perché ricordatevi il primo stipendio è quello che poi determina se andate in pensione con un assegno diciamo dignitoso o andate in pensione povere. Attenzione quando negoziate il vostro primo stipendio perché quello primo stipendio lì è quello sul quale poi tutti gli aumenti verranno fatti. Quindi non è banale entrare allo stesso livello degli uomini. L'altro punto importante è sulla natalità che lo voglio citare e dice molto semplicemente ma in maniera scientificamente diciamo provata che chi non lavora non fa bambini e quindi quando in casa c'è uno stipendio solo un bimbo non lo si fa se ne si fa uno è già tanto. Quindi questo è un altro elemento importante quando si parla dell'inverno demografico che tocca il nostro paese ma che tocca anche altri paesi dell'Europa occorre secondo me andare a guardare le politiche a favore della genitorialità che sono fondamentali e che ancora nel nostro paese per una scelta economica stentano a trovare a trovare campo. Ancora oggi i nostri bimbi e i nostri vecchietti li curiamo noi. Michela Castelli ci sono discriminazioni? Ci sono discriminazioni di genere da parte degli intermediari finanziari in ognuno di quegli ambiti di che menzionavamo prima cioè nell'accesso al credito nell'accesso alla previdenza? Ci sono e sono frutto di ragioni storiche è chiaro che persistono tutto questo movimento oggi assistiamo a un bellissimo momento di incontro che probabilmente dieci anni fa non si pensava neanche che ci sarebbe stato. C'è tanto lavoro nelle aziende per cercare di intercettarli e forse anche di risolverli non solo con strumenti coercitivi. Quello che citava prima Elena è che col diffondersi di una cultura diversa si passa anche attraverso la misurazione di tanti principi di tanti anche slogan che vediamo sul giornale. Chi è nelle aziende chi vive nelle aziende soprattutto in mondi che in effetti hanno visto una presenza femminile scarsissima è chiaro che il mondo finanziario era un mondo prevalentemente maschile questo è un dato di fatto. Adesso le donne sono più cattive sono più agguerrite e non sono più spaventate come prima come si combattono però certe differenze certe sperequazioni con degli strumenti di misurazione efficace e con un sostegno anche di quelle che sono le situazioni di contesto. Tutte le più grandi aziende almeno io vivo l'esperienza di aziende quotate che adesso si misura con i reti di sostenibilità si misura col fatto di dover fissare dei meccanismi di remunerazione incentivanti per il proprio management e questo vuol dire anche poter cominciare ad introdurre degli strumenti che di incentivo per gli stessi manager a favorire il fatto che certe situazioni vengano intercettate vengano gestite e anche a premiarle se sono in grado di sbloccarle. Io in alcune aziende in cui lavoro il tema della parità salariale che sento moltissimo perché è un tema che tra l'altro confligge con la natura un po' più femminile cioè chiedere soldi è dura quello che diceva prima anche Alessandra andare avanti e dire guarda chiedere soldi chiedere quello che è giusto è una cosa che almeno l'attomiglio è stata un contro natura avere però degli strumenti o crearsi degli strumenti di misurazione oggettivi nelle aziende e tra l'altro far sì lo ho dato come incentivo a un mio HR manager che ho detto io vorrei arrivare a creare uno strumento che consente di misurarlo per poter intercettare il fenomeno nelle sue reali dimensioni e fare una pianificazione per risolverlo nel tot numero di anni questo cosa fa le agenzie di rating adesso che danno anche reti di sostenibilità di fronte a un obiettivo concreto come questo possono anche premiare l'azienda quindi è una win-win riusciamo a mettere in piedi delle situazioni in cui la cultura si diffonde in cui in effetti affrontiamo una tematica anche non solo parlandone e con lo solito approccio noi contro loro no un approccio concreto che ci porta a trovare delle soluzioni che poi possono essere replicate in altre realtà come best practice e modelli da imitare abbiamo sentito che in alcune aziende gli aspetti premiali della retribuzione si basano anche su questi su questi KPI su questi indicatori di performance ci sono la presenza famiglia è stato il primo il più classico che però ormai io trovo un po' obsoleto quindi bisogna evolversi anche a luce di quello che sono queste indagini utilissime che portano anche nuovo football for tots come si suol dire pensare anche dei meccanismi nuovi quello che citava prima Elena anche solo pensare ancora come come possono essere diverse le approcci comportamentali la scelta di investimento nelle famiglie italiane cioè comunque le aziende arrivano alle famiglie italiane sia perché ce l'hanno come clienti sia perché hanno i dipendenti quindi c'è anche oltre che l'università nelle scuole anche le aziende cominciano a fare cultura e dedicare a tempo a questi temi questo è un altro elemento importante e circolare far circolare informazioni aiuta anche a capire dove orientare e dove massimizzare gli sforzi professoressa Beccali un numero per chiudere abbiamo sentito dell'importanza delle discipline STEM per assicurare diciamo uno stipendio meno diverso o almeno diciamo più simile tra generi ecco lei al suo corso di intermediazione finanziaria ha più studenti maschi o studenti femmine? le studentesse alla facoltà di scienze bancarie finanziarie assicurative sono meno degli studenti maschi stanno crescendo almeno? dunque stanno crescendo anche se il dato è forte ma credo meriti di essere condiviso sono a livello di Ateneo la percentuale più bassa tra tutte le 12 facoltà questo è un tema forte rispetto all'idea che le professioni di domani vedranno una forte rilevanza delle discipline STEM la nostra è una facoltà chiaramente di taglio più quantitativo e le studentesse continuano a essere meno rappresentate in questa facoltà però sono sempre più consapevoli questo mi dà sempre un seme di grande speranza perché da un lato le vediamo organizzarsi in associazioni studentesche tra studentesse proprio per approcciare il mondo della finanza con più consapevolezza e dall'altro noi stessi come facoltà le stiamo accompagnando le accompagneremo sempre di più con questo programma che abbiamo chiamato Women in Finance rivolto alle studentesse e agli studenti della facoltà perché comprendere che la diversità crea valore è qualcosa necessario per le studentesse ma anche per i nostri studenti per il sistema io spero che siamo riusciti a convincervi che l'educazione finanziaria e la libertà economica sono per i requisiti fondamentali dell'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e ringrazio moltissimo Elena Meccalli Michela Castelli e Alessandra Perrazzelli grazie grazie